ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video allora oggi il catania ha vinto 2 a 1 con la virtus francavilla è stata una bella partita hanno giocato tutti bene specialmente welbeck ha recuperato bevalloni al centrocampo che tra l'altro si è procurato il rigore messo a segno da cicciolodi il catania era passato in svantaggio e poi e poi l'ha recuperato con un gol di cicciolodi sul rigore e poi con il gol di vincenzi mosardo poi del resto hanno giocato tutti bene anche di piazza ha fatto una bella prestazione i cambi pure sono stati sono stati fatti bene azzeccati e welbeck ripeto ha fatto una bella partita che è stato criticato da molte da molte persone quando è stato acquistato e anche band è stato stato criticato però ancora band non ha giocato ma penso che si ribellerà forte anche lui niente ragazzi ci chiudiamo questa vittoria il pari ha perso 3 a 1 in casa con la vita è il bese e ora siamo in classifica siamo a 6 punti insieme alla ternana però ancora è presto per parlare di classifica però secondo me lo dico già da ora le candidate per vincere il campionato quelle che salotteranno con catania saranno regina e ternana ora la prossima partita giocheremo a potenza fuori casa cerchiamo di vincerle tutti cerchiamo di vincerle a potenza e niente ragazzi ci vediamo domani vi dirò la live reaction dallo stadio e testa a potenza ci vediamo in un prossimo video ciao